Siamo con Paolo Iacono del ristorante Dal Pescature. Come sta andando questa stagione estiva in termini di presenze? Io penso, diciamo, posso essere sicuro meglio dell'anno scorso perché rispetto all'anno scorso ci sono stranieri in più. Abbiamo notato una presenza di stranieri in più anche perché il vaccino ha fatto il suo effetto. Quindi molti, devo dire la verità, hanno notato molti danesi, quindi scandinavi, norvegesi, francesi, sempre qualche americano. E poi noi a Sant'Angelo abbiamo la fortuna di avere il mare a due passi, vengono via mare molte barche che non so, ci danno belle conferme. Quindi vorrei dire solo una cosa a tutti i nostri colleghi operatori dell'isola, di cercare di fare più qualità, perché la qualità la gente la paga e il lusso non è mai in crisi. Quindi pregherei ai nostri colleghi albergatori di puntare a un turismo medio-alto, di puntare sul lusso che quello non ha mai crisi. Quindi servizi, camere belle, ristrutturazioni fatte con cura, date in mano a dei professionisti, non farle così per conto nostro, che ogni settore ha un suo professionista. Quindi architetti, arredatori di interni, nella ristorazione, metri, insomma, pecchiamo proprio nei servizi e nell'accoglienza. Questo è un po' l'appello che vorrei fare ai miei colleghi. Il mese di luglio come è andato? Il mese di luglio molto forti i weekend e durante la settimana, devo dire, molti stranieri. Noi stiamo, diciamo, dando una corsia preferenziale allo straniero perché ci dà conferma anche in periodi di bassa stagione. Quindi, logicamente, con ragazzi che parlano le lingue, con una cucina anche un po' internazionale, non la solita, quindi diamo una corsia preferenziale agli stranieri. E agosto, che ha appena iniziato, come si prospetta? Siamo molto preoccupati. A agosto di solito a Ischia arrivano i pirati, però, diciamo, a Sant'Angelo li conteniamo. Cominciamo davvero a selezionare a 360 gradi. Mi auguro alle forze dell'ordine di fare dei controlli assidui perché ne abbiamo bisogno. Cioè, qui a Sant'Angelo vengono spesso, quindi ci danno una mano, sia via mare che via terra. Vorrei dei rinforzi da Napoli. Lei crede che la stagione estiva si possa prolungare anche dopo settembre, qui a Sant'Angelo? Sì, noi ci puntiamo anche perché non dimentichiamo Procida, che è diventata la capitale della cultura d'Europa, no? E quindi attira tanta gente. Procida non ha un incoming adatto, quindi puntiamo a fare delle corse spesso su Procida via mare e noi abbiamo, diciamo, l'incoming giusto, quindi la gente potrebbe abbinare terme e cultura con Procida durante il giorno. Insomma, quindi potrebbe essere un obiettivo per allungare la stagione. Secondo me l'obiettivo è quello di non chiudere proprio a novembre, puntare direttamente sul Natale, cercare di fare eventi per novembre e chiudere direttamente l'8 gennaio. Grazie.